Contento di questa vittoria? Sì, molto contento, l'abbiamo cercato e l'abbiamo... Matteo, aiutami Matteo! Sei contento della vittoria? Sei contento della vittoria, abbiamo buscado la vittoria per poter ganare, necessitavamo farlo e per la sua vita lo conseguimos. Era importante vincere, abbiamo ottenuto una bella vittoria che era quello che importava oggi. Ecco, abbiamo Matteo Vigione che fa il traduttore simultaneo. Ti stai piano piano inserendo nell'idea di gioco di Mister Pecchia. Come sta andando questo tuo inserimento nella squadra? Sì, mi sto mettendo da poco dentro dello che pide il tecnico, dentro dello che necessita l'equipo también. Mis compagniers mi hanno aiutato e mi aiutano muchísimo e eso para mí es muy valorable, así que yo solo quiero ayudarlos a que puedan ganar y l'equipo pueda seguir creciendo. Mi sono calato molto bene, mi hanno accettato tutti molto bene, le squadre mi stanno dando una mano, adesso quello che mi interessa è ripagare la fiducia e aiutare la squadra a trovare le vittorie che servono per il nostro obiettivo. Sei diventato un titolare, ormai è la terza da titolare, là davanti tante responsabilità. Sì, responsabilità, haciendo lo che mi gusta. Mi trabajo es jugar al fútbol, es lo que amo hacer e oggi ho la possibilità di giocare a questo gran club. Así che il mio obiettivo è seguir jugando e seguir ganando per cumplire il obiettivo del club. Lo che amo è giocare a calcio, lo sto facendo, il mio obiettivo è come quello del club, aiutare a raggiungere quello che è il nostro obiettivo. Quanto hai capito la Serie B? O quanto ancora devi capirla a questo campionato? No, no, capire che cosa... Si, è molto difficile, è molto difficile la Serie B, è giocato nella Serie B d'Inglaterra anche, è difficile anche, però accostumbrando, quando si gana si è più facile, nella settimana e anche nei partiti seguinti, así che speriamo di seguirlo. Verona per te è un'occasione anche di rilancio per la tua carriera, dopo magari qualche esperienza non eccezionale, però Verona che cosa significa per te adesso? Verona significa il mio club di oggi e spero che anche, ovviamente quando uno viene con molti obiettivi e quando i tuoi obiettivi sono molto pareciti allo del club, ti dà ganas di chiederti. Il mio obiettivo è oggi di allenare il martedì per poter giocare la settimana che viene, dopo il tempo dirà se necessito, se mi gano il luogo in chiedermi unos anni più a questo gran club. Verona è una squadra importante, è un club importante, sono arrivato qua con l'obiettivo di giocare, il mio prossimo obiettivo è quello di allenarmi il martedì per giocare la prossima partita e magari rimanere in questo club, in questo grande club ancora. Com'è giocare con tuo fratello? Che emozione è? È buona, è difficile. Perché è difficile? È difficile perché Franco ha una personalità che ovviamente è positiva, però a volte è rara. Quindi io lo conosco già da piccolo e ovviamente cuento per non ennojarmi io anche. Però è un piacere, la famiglia sta sempre attenta al televisore e la verità è una felicità enorme vedere il mio fratello al lato mio dentro di una cancia. È una felicità enorme per la mia famiglia e anche per me avere il mio fratello al mio lato in campo. Non è facilissimo giocare con lui perché è una personalità importante, sempre positiva ma importante, però ovviamente lo conosco da quando è piccolo, quindi per me è un piacere giocare con lui. Ma ti sgrida ogni tanto? Ti sgrida? In casa también. In casa también, así que para mí es normal. Yo lo entiendo así, lo quiero así y esperemos que sigamos ganando. Es importante. Sí, mi rechiamo anche a casa, pero es justo así, a mí me piace así y quiero que continúe a hacer así porque es así que es él. La contestación, la contestación, ¿cómo la has vissado? ¿Por qué para ti, que se ha llegado a gennaio, insomma, para mí fue normal, fue positivo y por suerte pudimos volver a la victoria que es lo que necesitábamos? Sí, que en un periodo de dificultad en que no llegaron los resultados, ¿ci puede estar? Ci ha ayudado a sollevare el ánimo, es una cosa que, insomma, fortunatamente después hemos vinto también en campo, entonces seguramente todo se ha concluido al mejor. Los resultados ahora son llegados, el Verona por ahora es el primer, ¿puó rimanerse ahí el Verona? Sí, estamos en la tabla de posición arriba pero todavía no hemos conseguido nada, así que tendremos que seguir ganando, seguir apostando y entrenando fuerte para seguir ganando el partido siguiente. Siamo primi, pero no hemos hecho nada, no hemos terminado nada, debemos volver en campo con la misma grinta y determinación para continuar a estar ahí adelante. Si va todo bien, a fin de año, si hacemos los congresos, ¿te habría que quedarse en Serie A con Franco? ¿Sería una copia increíble? Sí, me gustaría muchísimo, pero no trato de pensar mucho en lo que puede llegar a pasar. trato de ir día a día, yo vivo mucho así también, y eso lo dirá el tiempo y lo dirá el presidente también, así que vamos a esperar un poco más y seguir ganando. me piacerebbe, y que me piden mis compañeros dentro de la cancha porque al estar hace un mes todavía me faltan algunas cosas que yo ya tiene, pero con entrenamiento, con paziencia y jugando lo voy a conseguir. ¿qué es lo que? Yo, ¿qué es lo que he llegado no durante tanto tiempo? ¿Debo mejorar il massimo in ogni partita, cercando di fare sempre meglio.